Sono stati tratti in arresto i tre malviventi, autori di una rapina avvenuta l'estate scorsa ai danni di una famiglia di commercianti di Villalta di Cesenatico. I fatti risalgono alla notte del 31 agosto, quando i rapinatori avevano atteso che la famiglia tornasse da una fiera per aggredirli nella loro abitazione e portarsi via l'incasso della giornata, un piano che si era rivelato imperfetto già da subito. In effetti non erano riusciti a portare via l'intero incasso perché l'intero incasso era occultato in un'altra borsa, non quella che loro avevano preso. Al fine di evitare che i malviventi si accorgessero dell'errore, uno dei componenti della famiglia, uno dei rapinati, ebbe una reazione che portò alla fuga, mise in fuga questi rapinatori convinti di aver comunque messo le mani sul malloppo. Effettivamente non avevano messo le mani sul malloppo ma su una piccola parte dell'incasso che era abbastanza cospicuo, vicino ai 20.000 euro. La tempistica con la quale era scattato il tentativo di rapina aveva fatto insospettire gli investigatori che sono giunti all'identità dei malviventi tramite una collaboratrice della famiglia di commercianti che si è poi rivelata complice del crimine. Dopo laboriose indagini, anche insospettiti dalla dinamica con la quale si erano svolti i fatti, siamo arrivati a delineare sia la dinamica che gli autori. In particolare tra gli autori vi era una collaboratrice di nazionalità brasiliana che è stata poi tratta anch'essa in arresto, che insieme al suo convivente e a un'altra persona avevano praticamente organizzato e messo in atto il colpo, di fatto poi non andato a buon fine.